E vai Alfa con vai alle 7.46 minuti di oggi martedì 12 marzo e abbiamo in collegamento il nostro ospite di oggi, stiamo parlando di, eh sì, come fosse un supereroe perché non ha un nome, non ha un cognome, non ha un volto, ma il nome di battaglia è Velocipiedi, buongiorno a Velocipiedi. Buongiorno a tutti. Allora sì, è un po', effettivamente non ce lo siamo detti questa cosa mentre preparavamo questa intervista, però per gli amici ti chiamerò Velo, va bene, ma Velocipiedi è come fosse una sorta di supereroe della nostra città perché ci racconta le piste ciclabili, l'urbanistica in una maniera molto easy per tutti quanti, no? Cosa fa Velocipiedi? Qual è il superpotere di Velocipiedi? Allora, Velocipiedi è un profilo che ha l'obiettivo di parlare di urbanistica e trasporti in un modo pedagogico, cercando di essere il più oggettivo possibile, quindi di non prendere un'opinione e di dare alle persone il materiale per capire com'è la situazione e per giudicare per se stesso. Non cerchiamo di influenzare le scelte politiche, ma di vedere i punti positivi e i punti negativi di quello che c'è. Poi giustamente sarà la gente a farsi la sua idea e a decidere su quale simbolo mettere le crocette quando andiamo a votare, però giustamente voi fate vedere, Velocipiedi fa vedere un po' qual è la realtà delle cose. A volte è interessante perché si critica degli aspetti, altre volte invece si elogiano altri aspetti. È un amore, tu sei molto giovane, non si possono dire le cose sui supereroi, quindi rimaniamo un po' così, molto probabilmente avrà gli occhiali quando è civile, poi toglie e diventa come Superman e Clark Kent, ma appunto il tuo mappare un po' la città, raccontare un po' la città, passa ad esempio attraverso dei piste ciclabili che hai raccontato molto bene. E ne raccontate di positive e di negative, giusto? Sì esatto, ne sto anche preparando altre e vedo che è quello che piace molto alla gente, perché alla gente piace polarizzare su questi argomenti. E quindi io cerco di rompere un po' questa polarizzazione. Che è interessante questa cosa, perché in realtà siamo in un mondo dove chiunque cerca di polarizzare tutto. Dai grandi, immagino Trump, uno su tutti ad esempio, anche noi quando cerchiamo comunque di portare dalla nostra parte qualcuno, non cerchiamo di polarizzare, quindi alla fine io dico sempre Milano-Inter, tutto è tifoserie. Invece tu parti da un aspetto tecnico, spesso e volentieri, però poi ce lo racconti e lo fai capire a tutti. Quindi ti direi, senza polarizzare troppo però, quali sono stati gli aspetti più positivi e più negativi che hai trovato in questi primi mesi? Dicevamo, quando è che hai iniziato con Velocipiedi, raccontare la città? Allora, aspetti positivi, di sicuro la comunità che si è creata dietro al mio nostro cilio, perché ci sono davvero persone che valgono oro, che mi seguono, che ogni tanto anche mi correggono a me, e questo è il meglio per me, che le persone mi diano delle critiche costruttive. Poi anche il piacere di scrivere dei testi, il fatto che i testi siano limitati a 90 secondi su tutti i video, mi costringe molto a scegliere le mie parole e spesso mi ritrovo con dei testi due minuti, eh, devo togliere 30 secondi, tolgo tutto quello che potrebbe essere opinabile. quello che non sono molto sicuro, magari ne parto in un altro video, ehm, così evito di divagare e ho un contenuto chiaro per la gente che vuole vederlo. Eh, e punti, eh, anche un altro punto positivo è che lavoro con altri amici che mi aiutano a scrivere i video, dei ghostwriter, possiamo parlare di... e invece i punti negativi, beh, sono principalmente, eh, appunto la polarizzazione, i commenti, i insulti. Ci sono gli haters, ci sono anche gli haters di velocipiedi, sì, sono già arrivati. Sì, sì, sì. In proporzione mi sa che sono molto di meno rispetto a quelli che, eh, che fanno i contenuti, eh, diciamo, ehm, meno pragmatici, quindi quelli che sono più apertamente contro gli automobilisti. Io non sono apertamente contro gli automobilisti, sono per un più giusto, una città più giusta, nel senso, eh, distribuita meglio, più sostenibile e, eh, che sono più felice, diciamo, quindi... Insomma, dove tutti possano avere il suo, il proprio spazio. Ma invece, andiamo un po', dai, parlando proprio delle piste ciclabile, Qual è stata la migliore pista ciclabile che hai trovato a Milano, finora? Eh, io, purtroppo, finora, posso dire solo a Buenos Aires, anche se, mh, ha dei difetti molto, cioè, abbastanza importanti, però di fatto rimane la migliore pista ciclabile, anche solo per la sua frequentazione. Ah. Perché ha tanta, cioè, diciamo che ha una ciclabile che dura più chilometri, 5 chilometri, che si collega bene con le altre, eh, ovviamente ci sono tanti ciclisti rispetto alle altre. E' interessante questa cosa che hai detto, Velocipiedi, è interessante questa cosa che hai detto, perché, eh, spesso volentieri hai fatto vedere delle piste ciclabili fatte anche molto bene, ma tu dicevi, il problema è che poi rimangono singole, cioè, non sono collegate a nient'altro, rimangono lì, fatta benissimo, sono 300 metri, 200 metri fatti a regola d'arte, ma poi non c'è il collegamento con altre piste ciclabili. Quello è, invece, un dato negativo verso le piste ciclabili che possiamo trovare in città, giusto? Sì, esatto, perché è proprio quello che ostacola molte persone ad andare in bici. Cioè, ci sono delle piste ciclabili, per carità, bellissime, però se durano troppo poco oppure non sono state pensate per quello che devono fare, penso ad esempio alla pista ciclabile in corso semplione, attualmente in inaugurazione, o comunque completata, che è in mezzo al filare alberato, che è molto carina, ma non è molto accessibile, perché per raggiungerla si è obbligati almeno a attraversare il controviale e poi riattraversarlo per uscire. Ok. E non si collega a nessuna ciclabile, perché non c'è nulla di fatto in quella zona. Poi magari queste situazioni miglioreranno, quindi io rimango sempre ottimista. Ah, bene, questo è importante. Scusa, però? Mi sono perso. Allora ti chiedo io invece, ma quindi qual è l'obiettivo, visto che siamo quasi in chiusura, qual è l'obiettivo finale di Velocipiedi? Dove vuole portarci questo supereroe della nostra città? Eh, questo devo ancora pensarci interamente, perché finale in questi termini non so tra quanto tempo può essere, perché ci saranno sempre sviluppi in questo tema. Il mio obiettivo sarebbe di avere una città in generale più equa nella distribuzione delle spazi, più attestibile per tutti, più semplicemente piacevole per i pedoni, perché per me i pedoni sono soprattutto anche i ciclisti, perché dopo tutto siamo tutti pedoni. Infatti, infatti, perché non dimentichiamoci che appunto il tuo nome fa velo, ma il tuo cognome fa piedi, quindi insomma è anche interessante questa parte qui. Ricordaci dove possiamo seguirti, dove possiamo trovarti appunto. Potete seguire su Instagram, il nome è Velocipiedi, e in realtà è l'unico social che uso attualmente. Ho pensato a svilupparmi su altri canali, ma sarebbe un carico di lavoro troppo grande. Velo è veramente fantastico. Allora, contro ogni pronostico non vuole polarizzare, contro ogni regola dei social dice no, sto solo su uno e lavoro solo su quello. Veramente, complimenti. So anche, avete un bel gruppetto di super giovani che avete appunto avuto questa idea, quindi davvero complimenti per quello che state facendo. tienici aggiornato e magari appunto così, se mai uscirà una top five dei luoghi più ok e di quelli meno ok della città, noi siamo qua a aspettarla, sappilo che noi lo aspettiamo. Ah, uscirà di sicuro. Ecco, bene, bene, bene. Allora, Velo, grazie mille davvero per il tuo collegamento, grazie soprattutto per il tuo profilo, perché davvero ci dà grandi spunti di riflessione e ci insegni qualcosa. Anche questo è interessante. Cioè, educare non è cosa da tutti. Grazie a voi, grazie per l'invitazione. Grazie mille, allora. Grazie mille a Velocipiedi. Andiamo avanti con la musica adesso, con il momento di Big Mama, con La Rabbia non basta.